In questo tutorial andremo ad installare Kubernetes con Minikube su un desktop Ubuntu Come prima cosa dobbiamo installare Oracle VirtualBox o un altro sistema di virtualizzazione perché Minikube lo richiede in quanto andrà a installare lì poi il cluster su cui opereremo Una volta installato VirtualBox ci colleghiamo al sito di Kubernetes poi vi metterò il link in descrizione Seguiamo le istruzioni e come vedete per prima cosa vogliono che si installi kubectl Quindi clicchiamo sul link e andiamo a seguire le istruzioni Come vedete per farlo basta usare questo comando curl Lo si incolla Una volta downloadato possiamo andare a rendere il file eseguibile tramite il comando chmod più x punto slash kubectl Lo incolliamo nel nostro terminale Inviamo poi andiamo a spostare appunto il nostro file eseguibile nella cartella user local bin kubectl Una volta incollato e installato mettiamo kubectl version e appunto se ci riesce questo Poi con kubectl lanciamo e possiamo vedere la lista dei comandi Una volta fatto questo possiamo andare a installare Minikube Come vedete anche qui c'è un comando curl con già Incluso anche il comando chmod per renderlo eseguibile Quindi lo copiamo lo incolliamo nel terminale Ok l'installazione sta quasi finendo Una volta installato Proviamo a lanciare il comando minikube Come vedete si dice directory non esistente Perché dobbiamo andare appunto a spostarla nella nostra cartella locale Tramite questo comando sudo install minikube Slash user slash local slash bin Ok ora proviamo a lanciare minikube E come vedete ci esce la lista dei comandi Quindi quello che ci resta da fare ora è appunto Creare appunto una virtual machine tramite minikube Quindi minikube start meno meno vm meno driver uguale virtualbox Vedete qui appunto il comando Minikube start e d2c driver name lo sostituite con Il nome appunto del vostro sistema di virtualizzazione Nel mio caso virtualbox Quindi minikube start meno meno vm meno driver Ho dimenticato il meno Vm meno driver uguale virtualbox Aspettiamo un attimo che installi tutti i Appunto il file iso di minikube Se appunto andiamo sulla macchina virtuale Dovremmo prima o poi vederla apparire lì Come vedete sono 150 mega Quindi ci metterò un attimo Ok ho messo in pausa L'ho fatto ripartire Quando è al 94% Dovremmo quasi esserci Ok L'hai già stata caricata La macchina virtuale sta per essere creata appunto Qui vedete la memoria allocata eccetera Se ora andiamo in virtualbox dovremmo vederla Ok vedete ora è partita in esecuzione Una volta fatto questo installerà anche Kubernetes eccetera Sempre dentro la macchina virtuale Tutto questo in automatico Ovviamente le prossime installazioni saranno più veloci Questa essendo la prima volta dovuto In scopiarsi l'iso eccetera Quindi è un po' più lunga Ma una volta fatto dovrebbe procedere velocemente Ora appunto sta installando Kubernetes Ok Ok Peromedius E' mmm E's As E' 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 ok come vedete ha finito di installare tutto quello che serviva quindi ora il nostro minicube attivo lanciamo un minicube status appunto ci fa vedere che è tutto funzionante e ora proviamo a lanciare un deployment sempre preso dal sito di kubernetes poi nei prossimi tutorial vedremo appunto come crea dei sistemi un po più complessi con kubernetes poi lanciamo questo poi solo per vedere appunto le basi quindi abbiamo lanciato questo deployment facciamo kubectl get get deployment deployment ok ho sbagliato qua devo mettere kubectl ok come vedete ci da ellonode che è stato creato 24 secondi fa ora scendiamo lanciamo kubectl get pods poi più avanti vedremo cosa sono i pods eccetera questo il pot è ancora in fase di creazione questo significa praticamente che sta scaricando ancora l'immagine del docker e poi la farà partire appena avrà finito nel frattempo che scarica il docker possiamo vedere questa funzionalità di minicube che si chiama minicube dashboard quando la lanciamo in automatico fa partire dovrebbe farci partire appunto una dashboard in qui possiamo vedere lo stato dei nostri istante eccetera come vedete eccola che partita come vedete appunto ellonode è ancora in fase di scaricamento quasi completo e qui trovate insomma un sacco di informazioni che vi potranno servire una volta costruiti appunto complessi comunque tutte queste cose vedremo nei prossimi tutorial ora aspettiamo che finisca di scaricare ellonode e poi vedremo come visualizzarlo ok ora dovrebbe averlo installato come vedete get run status running quindi ora è attivo quindi una volta fatto questo facciamo minicube service list ok come vedete non è accessibile da nessuna parte no note port quindi dobbiamo appunto creare appunto esporlo solo porto tanto tanto qualsiasi altra porta vogliamo quindi ora rifacciamo minicube service list e come vedete ora lo abbiamo su questo indirizzo qui lo facciamo partire come come vedete abbiamo il nostro hello world come vedete abbiamo il nostro hello world come vedete abbiamo il nostro hello world ora facciamo kubctl get 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 service get service get service guardiamo cosa abbiamo quindi abbiamo appunto il nostro hello world node se facciamo get deployment come vedete abbiamo allo node quindi come abbiamo detto con get deployments abbiamo allo node ora possiamo provare a scalare quindi a duplicarlo quindi a duplicarlo quindi kubectl scale deployment hello node would replicas facciamo 5 quindi ora facciamo google kubectl get port e come vedete c'è uno, due, tre, quattro, cinque dobbiamo lanciare uno scale due tecnicamente dovrebbero appunto tre sono in fase di chiusura, terminating e ne rimangono attivi due uno e come vedete stanno gli altri quattro stanno morendo poi scompariranno a breve dieci e come vedete quattro sono stati terminati adesso ne stanno appunto venendone ricreati altri quindi uno, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto, nove e il decimo che sta già in funzione come vedete ecco un po' alla volta stanno partendo tutti ora se vogliamo invece distruggere tutto quello che abbiamo fatto dobbiamo fare kubectl kubectl delete deployments o deployment hello node quindi adesso facciamo get pods come vedete sono tutti terminati perché avendo distrutto il deployment anche i pods scompaiono se invece facciamo ripartire il nostro deployment andiamo a ricercare il comando che avevamo lanciato prima expose deployment no dashboard no andiamo a vedere vediamo se lo ritroviamo ok lo rilanciamo andiamo a get pods ora appunto ne sta per essere creato uno ok questo è funzionante guardate bene questo codice 7zfth ora noi copiamo questo nome facciamo appunto kubectl delete pod rilanciamo il nome ora lo abbiamo appunto cancellato come vedete scusate ma il computer è un po' sovraccarico con la memoria lo abbiamo cancellato come vedete questo qua lo 7zfth è morto ma ne è subito nato un altro vedete 22 secondi fa ne è stato creato un altro se ora noi andiamo a cancellarlo se andiamo a cancellare anche questo ne verrà immediatamente ricreato un altro come vedete ne è stato subito creato uno nuovo in fase di creazione ora torniamo con le nostre repliche scritte probabilmente ne creiamo tre quindi andiamo su get pod andiamo a cancellare questo e come vedete il p8m6v è terminato ma ne è subito nato un altro appunto questo vi farò capire appunto come funziona kubernetes quando un pod cade ne crea subito un altro li può appunto replicare anche all'infinito o ridurli eccetera e proprio avanti vi spiegherò meglio come funziona tutto questo ora andiamo a cancellare appunto il nostro deployment quindi hello world delete deployments hello node e quindi non dobbiamo più avere pods ok ora dobbiamo andare a cancellare anche il servizio che appunto è sempre hello node quindi kubectl svc oppure service hello node ora facciamo kubectl get all no get all appunto vedete questo è in fase di chiusura e tutto non abbiamo più niente per fermare minikube facciamo minikube stop e in questo modo abbiamo spento minikube per farlo ripartire poi basterà minikube start senza dover fare vm meno driver uguale virtual box perché lo riconoscerà in automatico come vedete qua in virtual box minikube è spento niente nei prossimi tutorial appunto vedremo come configurare un appunto un sistema completo un po più complesso con con kubernetes per oggi è tutto in descrizione trovate i link e niente al prossimo tutorial